Che? Che? Che to me! Vano, vano che tu mi? Vano che tu mi? Quattro, quattro, quattro? Quattro, questo è il gaianere di lotta. Lota? Vano, 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 vano. Vano, vano, vano. Vano, 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 vano. Sulker Seyìb? Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 S Bisogno? Non sto conciando un semifichino. Quali che non puoi fare questi bisogni, non sto conciando. No! Non sto costando a misogino. Grazie a tutti i nostri amici.